Sordici rimessa con la recuperata di David Logan che può correre ma si becca la stoppata con il recupero di Tonut Peric per uno show per il Troato che realizza un canestro splendido sul finale di terzo per il suo tentativo Logan però consegna la sfera praticamente a figlio, il sensazione di bonta che non si contentizza la schiacciata Peric per uno show per uno show per il suo tentativo Peric per uno show per uno show per il suo tentativo Romano ha cambiato ballo in volo, recupero di scone, il pallone servito sotto, Debra fa la volo, arriva Beric dall'angolo e Basquets Un altro recuperato con Brahmos che lancia per voglio e Beric dietro la schiena in schiaccia Brahmos Raglan, tutto il palletto con il scarico dietro la schiena, il pallone per Aries Di lei! Da Marquez Seis che gioca due con Melty Devis Ligia di punto del scarico per avere in 2 secondi 4 extra passaggio per Michael Braavos! Michael Braavos! Scmayı ungen La La Grazie a tutti.